Oroscopo del giorno, lunedì 19 giugno 2017. Con la luna nel segno i single avranno l'astuzia di capire se una persona li sta prendendo in giro. Lavoro, positiva la sfera professionale, tutto va a gonfievele e potrete stare tranquilli per il futuro. Toro. Amore, venere vi offre sicurezza affettiva e ottime amicizie. Se avete bisogno di un chiarimento non esitate a chiederlo per proseguire con calma e serenità. I single dovranno accettare un consiglio se vorranno intraprendere nuove strade ed evitare di commettere errori. Lavoro, se volete perseguire i vostri progetti fate attenzione alle occasioni che vi si presenteranno. Saranno molte, forse troppe. Gemelli. Amore, le emozioni oggi saranno alla stelle e la vita di coppia al momento è molto intensa e variegata. Dovrebbe essere sempre così, almeno potreste contare su qualcuno. Entusiasmo e allegria caratterizzeranno la giornata dei single che vorranno divertirsi fino a tarda notte. Lavoro, sarete determinati e creativi e se lavorate nel commercio avrete molto successo. Presto raggiungerete ottimi traguardi. Cancro. Amore, potrà esserci un po di tensione e nervosismo nella coppia a causa della gelosia. Calmatevi se non volete che tutto degeneri in qualche accesa discussione. Per i single è un giorno pieno di incontri, forse vedranno anche una persona che viene dal passato. Lavoro, siate diplomatici nel dare una risposta a qualcuno che vuole solo mettervi i bastoni fra le ruote. Linvidia è una brutta bestia. Leone. Amore, lamore va bene e il vostro rapporto prenderà slancio. Grazie ad una ritrovata serenità le piccole azioni quotidiane vi sembreranno di grande importanza. Nuove opportunità per i single che vorranno iniziare una nuova storia damore. Lavoro, buone notizie sul fronte professionale. Oggi sarà una giornata intensa e ricca di appuntamenti con colleghi e superiori. Vergine. Amore, la presenza di Marte vi assicura una giornata ricca di passionalità e intense emozioni. Lintesa e la complicità con il partner e alle stelle, godetevela. Sono in arrivo grosse novità per i single che potranno vivere vere e proprie follie amorose. Lavoro, avrete brillanti intuizioni al lavoro e una notizia vi rincorrerà. Potrebbe trattarsi di collaborazioni a lungo termine. Bilancia. Amore, siate cauti con il partner e anche comprensivi, mostratevi vicini al momento di difficoltà che sta attraversando. Tenete lontano i pettegoli. I single potranno fare nuove conoscenze e alcune di queste potranno rivelarsi importanti per il futuro. Lavoro, siate astuti e grintosi per raggiungere i vostri obiettivi. Non agite d'impulso e siate obiettivi nel fare le vostre scelte. Scorpione. Amore, oggi troverete finalmente il modo di superare vecchie incomprensioni con la persona del cuore. Apritevi e siate sinceri, tutto si risolverà. I single potranno dedicarsi allo shopping e a cose frivole per sbagarsi e concedersi un po' di relax. Lavoro, siete stati molto impegnati sul lavoro e non avete avuto tregua. Chiedete aiuto se non arrivate a terminare tutto in tempo. Sagittario. Amore, non avete davvero di che lamentarvi, oggi passerete una bella giornata con la persona amata e avrete la conferma che aspettavate sui suoi sentimenti. Sono in arrivo delle belle novità anche per i single che vorranno andare in cerca della propria metà. Lavoro, avrete delle conferme sulla sfera professionale che non vi dispiaceranno. La ruota gira per il verso giusto. Capricorno. Amore, non è la giornata adatta per affrontare discussioni e con Marte e Urano dissonanti vi potranno essere tensioni e scontri. Ponderate su una decisione sentimentale. Per i single è un giorno da dedicare al relax e alla cura di se stessi. Riposatevi. Lavoro, non reagite alle provocazioni e attendete il momento favorevole per passare al contrattacco e sbaragliare tutti. Acquario. Amore, se siete in coppia, assecondate le esigenze del partner e non trascuratelo. È un'ottima giornata per l'amore e avrete anche dei chiarimenti che attendevate da tempo. I single trascorreranno una splendida serata con la persona interessata. Flirting vista. Lavoro, avrete pieno successo nelle vostre iniziative e i vostri guadagni aumenteranno. Buoni rapporti con i colleghi. Pesci. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Pesci. 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 Pesci.